Nell'appuntamento di Target di oggi vi porto a Parre, siamo chiaramente in Alta Valle Seriana, qui all'interno del sito archeologico Parra Opium de Rio Robi. Siamo qui perché è in corso la quarta edizione di Orobia, questa importante rievocazione storica che per due giorni trasforma Parre davvero in quello che è stato questa importante località, località Castello. In mia compagnia c'è Omar Rodigari che è il vice sindaco proprio di questo comune che ci racconterà un po' quello che avviene in questi due giorni così importanti. Lo vediamo alle nostre spalle, ci sono i tavoli, c'è un teatro, una sorta di palco ma chiaramente ci sono anche tutti gli espositori, ci sono le tende e chiaramente ci sono anche le persone vestite come una volta tutto pronto per questa rievocazione storica. Ciao, sì, buongiorno a tutti, una giornata bellissima, baciati dal sole, quindi più bello di così non si può. Orobia è partita, la quarta edizione è ufficialmente cominciata, un'edizione che ha come titolo Fuochi per gli Dei, Oracoli per gli Uomini, è un'edizione che è caratterizzata dalla sacralità antica, quindi la grande novità di quest'anno è che questa sera alle 21 verrà acceso un rogo votivo e ci sarà una rievocazione nella rievocazione. Quindi verrà rievocato quello che era un rito sacro che si svolgeva su tutto l'arco alpino, quindi non solo a Parre, però su tutto l'arco alpino veniva questo in particolare. è un rito retico e quindi verrà anche celebrato in lingua retica, in lingua originale, dai rievocatori che sono qui presenti oggi, che rappresentano più popolazioni preromane, quindi dall'Italia settentrionale prima dell'avvento di Roma. Infatti i gruppi di rievocazione che ci sono sono provenienti, sono quasi 60 rievocatori, sono provenienti da tutto il nord Italia e ognuno, ogni gruppo impersonifica un'antica popolazione italica. Ci sono tantissime novità, tantissime attività sia per gli adulti sia per i bambini, bambini che hanno un ruolo privilegiato perché è non solo ma principalmente a loro che ci rivolgiamo con queste attività ludiche ed educative e formative anche. Infatti ci sarà anche una caccia al tesoro, incentrato su questi temi, ci saranno laboratori, dimostrazioni in tutti gli stand che caratterizzano il campo storico. Abbiamo detto particolare attenzione ai bambini e anche questo ci saranno proprio delle visite guidate dedicate ai più piccoli e non solo, proprio a tutte le famiglie. Esatto, ci sono quattro persone, quattro guide turistiche del Parco archeologico Parra Opidum degli Orobi presenti qui che spiegheranno, faranno delle visite guidate anche per piccolissimi gruppi lungo tutta la giornata e tutta la serata, quindi sia di sabato sia di domenica e le attività sono davvero infinite, non sto neanche davvero a elencarle tutte anche perché dopo ci sarà anche l'occasione di approfondire con i gruppi di rievocazione e davvero ci sarà da mangiare, da bere, le pietanze sono quelle che grazie agli scavi archeologici e ai ritrovamenti. Noi sappiamo che la popolazione di Parra e del nord Italia in generale consumavano 3.000 anni fa e quindi da padrone la carne alla braccia ovviamente ma anche le lunghe cotture, le zuppe, gli stufati. E una polenta particolare. E una polenta particolare perché ovviamente la polenta di mais che tutti i giorni noi oggi mangiamo all'epoca non c'era, il mais non era ancora arrivato dall'America e quindi si faceva la polenta sostanzialmente con il cereale che veniva coltivato, poteva essere miglio, poteva essere farro, poteva essere avena. Quest'anno riproporremo una pulse, come la chiamavano i romani, una polenta di miglio, quindi molto diversa dall'attuale, per comunque lasciare un legame con anche il presente, l'abbineremo comunque con una piccola polenta di mais, i quattro mais. Quasi tutte le pietanze sono o chilometro zero o comunque chilometro, se si può dire uno. Rimaniamo almeno in Valle Seriale. Si rimane qua, anche la selvaggina è selvaggina che comunque è cacciata dai cacciatori in Alta Valle Seriana e macellata da una macelleria della zona, la carne d'agnello è di parre, i formaggi sono di parre o comunque dei dintorni, quindi anche un'attenzione al mangiare locale e sano. Assolutamente. Questa rievocazione storica, che come abbiamo detto in apertura è giunta alla quarta edizione, va un po' a valorizzare anche quella che è questa località, Castello appunto, dove sono stati ritrovati e ci sono proprio i ritrovamenti storici, ma anche tutta l'area del museo che si trova proprio qui vicino, in piazza San Rocco. Sì, l'obiettivo principale di questo evento da sempre, da quando è stato ideato da me e dall'allora conservatrice Annalisa Bonassi, è sempre stato quello di valorizzare questo parco archeologico e l'antiquarium annesso, perché nell'antiquarium che è in piazza San Rocco sono esposti i reperti che sono stati trovati nel parco archeologico. Può sembrare una cosa logica, ma così banale non lo è, perché non sempre c'è un parco archeologico con un antiquarium affiancato ed è uno dei motivi per cui anche la soprintendenza di Bergamo e Brescia tiene tantissimo questo sito e noi cerchiamo di lavorare per valorizzarlo al meglio. Tra l'altro quest'anno abbiamo ottenuto un contributo dal Ministero della Cultura, è un fondo apposito che va a finanziare le migliori rievocazioni storiche d'Italia e con un pizzico d'orgoglio mi sento di dire che ce l'abbiamo fatta anche noi a ottenerlo. Era qualche anno che ci provavamo, quest'anno è arrivato, quindi cerchiamo sempre di fare le cose meglio dell'anno precedente sperando di farcela. Il buon lavoro sicuramente è sempre premiato, grazie a Omar Rodigari e in bocca al lupo per queste due giorni importanti qui a Dorobi. Adesso ne andiamo a sentire anche uno dei responsabili proprio di tutti questi rievocatori, andiamo a conoscerlo, se non sbaglio si chiama Simone. Simone. Simone, andiamo a conoscere Simone e entriamo a tutti gli effetti all'interno di questa rievocazione storica. Simone Eliguori, responsabile di quella che è un po' la rievocazione storica di quest'oggi qui a Parra. Innanzitutto partiamo da tutte queste bellissime tende, da tutte queste comparse, se possiamo definirle così, e poi mi correggerai tu chiaramente, se sbaglio. Che cosa possiamo vedere oggi qui in questo comune dell'Alta Valle Seriana? Allora, anche quest'anno sono accorsi numerosi ricostruttori storici. Noi ci occupiamo di rievocazione storica, ma anche di ricostruzione storica. Siamo diverse associazioni provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna e ci occupiamo proprio di ricostruire la vita, gli usi e i costumi delle popolazioni che anche in queste zone abitavano nel corso dell'età del ferro. In particolare, in questi due giorni, i visitatori potranno immergersi in quelle che erano le culture dei reti, dei celti e dei leponzi, toccando proprio con mano la storia e quindi tutti gli oggetti che si utilizzavano dai vasi, gli strumenti di lavoro, le armi e quindi proprio fare un viaggio indietro nel tempo e rivivere la magia e l'atmosfera che si respirava nell'età del ferro anche qui nell'abitato di Parre. Vediamo appunto come hai detto Elmi, armi, vediamo anche quello che si mangiava una volta qui a tutti gli effetti, poi si potrà anche davvero toccare con mano e magari costruire proprio la propria arma, la propria spada. Sì, questo è un po' il valore aggiunto della ricostruzione storica, permette proprio alle persone di poter vivere in prima persona e fare un'esperienza concreta rispetto magari a una visita in museo dove gli oggetti sono dietro, celati, nascosti, dietro le teche di vetro. Qui invece, soprattutto i bambini e i ragazzi, attraverso una serie di laboratori, potranno sperimentare, creare il loro vasetto, scrivere, coniare una moneta, provare a tingere i tessuti e provare anche a tessere la lana. Eh sì, tutti i lavori che insomma sembrano così lontani dalla nostra vita ma insomma grazie a voi poi possono essere ripresi e toccati davvero con mano. Io sono curiosa, Simone mi racconti un po' come mai ti sei avvicinato alle revocazioni storiche. Allora io sono un archeologo, quindi un po' diciamo che dal lavoro la parte di passione un po' più ludica, più divertente mi ha portato a entrare nel mondo della revocazione storica perché consente di far conoscere l'archeologia, la storia alle persone in modo magari più divertente, più dinamico e meno scientifico e noioso dove magari spesso si pensa che l'archeologia sia una scienza così lontana dalle persone. Ecco proprio la revocazione storica fa sì che le persone possano conoscere divertendosi. E la cosa bella è che tra di voi insomma siete tutti giovani, insomma la storia piace ai giovani. La storia piace ai giovani, poi il bello è anche il cambio delle generazioni perché siamo partiti anche noi a fare l'evocazione che avevamo magari 20 anni, 18, chi anche meno adesso abbiamo delle vere e proprie famiglie, quindi anche i bambini, i nostri figli e amici più piccoli che ovviamente si divertono perché anche noi è un po' come tornare bambini è sempre stato il sogno magari di avere le armi, di provare le armi, di vestirsi come gli antichi e vedo che tanti giovani ancora si avvicinano alla storia, all'archeologia proprio grazie alla revocazione storica. Ci racconti un po' cosa ha di bello, parre e questo sito archeologico? Innanzitutto sicuramente il posto, si respira un'atmosfera veramente magica, si respira la storia ma anche si vede proprio l'entusiasmo e la passione che ci mettono tutti gli organizzatori del posto, dal comune, la proloco, gli operatori del museo, hanno proprio voglia di far vivere ancora questo posto e farlo conoscere anche a tutte le persone che magari non abitano qui vicino ma che grazie anche a questi eventi possono venire a scoprire non solo parre ma anche la Val Seriana e tutto il territorio circostante. Quarta rievocazione storica di Orobia è per lei che è insomma la conservatoria di questo sito archeologico benvenga a questo tipo di manifestazioni che vanno a valorizzare a tutti gli effetti questo sito molto importante e che magari visto dall'esterno può essere anche molto lontano dalla realtà attuale. Buongiorno a tutti, il sito di Parre è effettivamente un sito molto difficile per chi non è addetto ai lavori. È stato fatto un grosso lavoro in questi anni per renderlo più comprensibile per tutti i visitatori e altri lavori sono in progetto ma non svelo nulla perché se no poi dopo non c'è più la sorpresa. Con rifacimento dei pannelli, l'esposizione all'antiquarium è stata arricchita ma soprattutto grazie all'amministrazione comunale si è sentito questa forte necessità di coinvolgere sia i cittadini di Parre che i turisti e il territorio in Orobia che è una revocazione storica che ogni anno affronta tematiche differenti. L'anno scorso ad esempio avevamo fatto, era stata dedicata ai contatti fra le diverse popolazioni dell'età del ferro, quest'anno invece è dedicata ai roghi votivi e oggi pomeriggio infatti ci sarà una conferenza della dottoressa Solano della sopraintendenza ABAP di Bergamo Brescia che ci illustrerà i roghi votivi in area alpina. Tutti gli stand servono per far capire ai visitatori come si viveva e quali erano le attività che erano svolte all'interno dei villaggi degli abitati e ovviamente nel corso dell'età del ferro e i rievocatori che ci sono, ci sono tanti stand, sviluppano diversi argomenti, la lavorazione della ceramica, l'alimentazione, la tessitura, la forgiatura dei metalli, infatti oggi pomeriggio c'è anche un evento dedicato alla fusione dei metalli. Tutto questo perché le persone possano comprendere meglio questo sito che ripeto è particolarmente difficile per chi non conosce l'argomento. Qual è la particolarità di questo sito? Ce n'è una su tutte che insomma pare diverso rispetto agli altri perché? Parre è diverso rispetto agli altri secondo me perché dimostra come già nel corso del quinto e sesto nel sesto e quinto secolo avanti Cristo i contatti fra le diverse popolazioni fossero attivi e iperattivi più che attivi quindi con le popolazioni del Trentino, i reti, con le popolazioni a nord delle Alpi, con gli etruschi e col mondo celtico-golassecchiano in generale. Quindi era proprio un punto di incontro per tutte queste popolazioni vista anche la sua posizione strategica oltre che con un panorama bellissimo ma anche per l'estrazione dei metalli. Quindi credo che la caratteristica sia questa, cioè proprio il fatto che fosse un punto di incontro per popolazioni differenti. Prima con Omar Rodigare abbiamo parlato di questo sito archeologico e soprattutto anche del museo che si trova proprio a pochi metri di distanza dai ritrovamenti stessi, anche questo è un valore aggiunto di questo comune. Sì, effettivamente il fatto di poter vedere esposti e contestualizzati con tanti pannelli, tante spiegazioni, i ritrovamenti che sono stati fatti a parre serve ancora di più per comprendere e capire anche lo sviluppo cronologico dell'abitato fin dalle sue origini nell'età del bronzo. Quindi parliamo di 3.000 passanni prima di Cristo fino al definitivo abbandono nella tarda età romana. Attraverso tutta una serie di passaggi che possono essere visti anche qui nell'area archeologica ma che meglio si capiscono andando a vedere i materiali che sono emersi nel corso degli scavi e che sono presentati anche in modo semplici e con delle schede adatte anche per i visitatori singoli con bambini perché noi abbiamo fatto insieme alla rete pad di cui facciamo parte delle schede per le famiglie che vengono da sole in visita al parco e all'antiquarium con i bambini.